Ciao, sono Rosa e sono all'Elogiety Club da 2015, quindi da tre anni. Credo che sia un... più che delle sessioni, sono un percorso, perché ogni sessione ti permette di entrare più in profondità dentro te stessa. La cosa che mi piace di più di questi training, di questo percorso, è intanto che si affrontano argomenti molto grandi, di tipo il potere personale, i problemi economici e come gestire la propria vita, e che in ogni sessione c'è sia Giuseppe che affronta la dinamica da un punto di vista razionale, per chi come me è molto razionale, riuscire a dare del cibo alla mente, quindi a comprendere proprio mentalmente alcune dinamiche è molto importante. E poi c'è una media che invece va molto molto nel profondo, a livello energetico, e quindi a livello di anima, che è una cosa veramente trasformativa. E poi ci sono le riprogrammazioni che ti aiutano a lasciare andare tanto, ovviamente sempre in base a quanto tu ti permetti. La mia vita è cambiata tanto per tutte le consapevolezze che ho preso e per tutte le cose che ho lasciato andare. Potevo lasciare andare molto di più, ma quello che ho fatto in quel momento credo sia la cosa giusta. E alcuni li ho trovati utilissimi, soprattutto per l'autostima, e perché insomma è bello, è un appuntamento, e veramente per chi è interessato a se stesso, a stare meglio, a comprendere come vivere meglio nella vita di tutti i giorni, io lo consiglio a tutti. Grazie.